Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera iniziale. Di tutti i giovani ammalati, dei bambini e degli anziani, affinché ogni loro dolore sia accettato con amore e ogni croce sia portata con la speranza nel cuore. Amen. Primo dolore. Maria nel tempio ascolta la profezia di Simeone. O Maria, mentre nel tempio tu presentavi a Dio il tuo figlio, il vecchio Simeone ti predisse che il tuo figlio sarebbe stato segno di contraddizione e che la tua anima sarebbe stata traffita da una spada di dolore. Queste stesse parole sono state già una spada per la tua anima. Hai custodito anche queste parole come le altre nel tuo cuore. Grazie, O Maria. Offro questo mistero per tutti quei genitori che in qualsiasi modo si trovano a soffrire per i loro figli. Ave, O Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, O Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, O Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, O Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, O Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, O Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, O Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Secondo dolore Maria fugge in Egito per salvare Gesù O Maria, sei dovuta fuggire col tuo figlio in Egito, perché i potenti della terra si erano alzati contro di lui per ucciderlo. È difficile immaginare tutti i sentimenti che hai provato quando all'invito del tuo sposo ti sei alzata nel cuore della notte e hai preso il tuo bambino per fuggire. Quel bambino nel quale riconoscevi e adoravi il Messia e il figlio di Dio. Sei rimasta senza quella sicurezza che la patria e il focolare domestico sanno offrire. Sei fuggita e così ti sei associata a coloro che non hanno un tetto sopra il loro capo o che vivono in paesi stranieri senza patria. O Maria, mi rivolgo a te, che sei madre, e ti prego per chi è costretto ad abbandonare la propria casa. Ti prego per i profughi, per i perseguitati, per gli esilati. Ti prego per i poveri, che non hanno mezzi sufficienti per costruirsi una casa e una famiglia. Ti prego in particolare per quelli che in seguito a conflitti familiari hanno abbandonato la loro famiglia e si trovano a vivere sulla strada. Per i giovani che soffrono in disaccordo con i genitori, per i congi che si sono separati, per le persone che sono respinte. Guidali, o Maria, attraverso la loro sofferenza verso la nuova dimora. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Terzo dolore Maria smarisce e ritrova Gesù O Maria, per tre giorni con indicibile affano hai cercato il tuo figlio e finalmente piena di gioia l'hai ritrovato nel tempio. La sofferenza è durata a lungo nel tuo cuore. La pena è stata grande perché eri cosciente della tua responsabilità. Sapevi che il Padre Celeste ti aveva affidato il suo figlio, il Messia Redentore. Perciò il tuo dolore è stato immenso e la gioia dopo il ritrovamento è stata certamente sconfinata. O Maria, ti prego per i giovani che si sono allontanati dalle loro case e per conseguenza si trovano a soffrire molto. Ti prego per quelli che hanno dovuto lasciare la casa paterna per motivi di salute e si trovano soli negli ospedali. Ti prego in modo particolare per quei giovani che sono rimasti privi di amore e di pace e non sanno più che cosa sia la casa paterna. Ricercali tu, O Maria, e fa che si lasciano trovare perché la realizzazione di un mondo nuovo diventi sempre più possibile. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quarto dolore Maria incontra Gesù che porta la croce O Maria, hai incontrato tuo figlio mentre portava la croce. Chi potrebbe descrivere il dolore che hai provato in quel momento? Mi trovo senza parole. O Madre Santissima, ti prego per quelli che sono lasciati soli nel loro dolore. Visita i carcerati e confortali. Visita gli infermi. Vai incontro a quelli che si sono perduti. Porgi una carezza a coloro che sono affetti da malattie incurabili come quando per l'ultima volta qui intera hai carezzato il tuo figlio. Aiutali a offrire la loro sofferenza per la salvezza del mondo come tu stessa accanto al tuo figlio offristi il tuo dolore. Preghiamo O Maria, umile ancella del Signore che ti sei lasciata afferrare dalla beatitudine promessa del figlio tuo a quanti compiono la volontà del Padre. Aiutaci ad essere docili al volere di Dio su di noi e ad accogliere sulla nostra strada la croce con lo stesso amore con cui tu l'hai accolta e portata. Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi pecatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi pecatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi pecatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi pecatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi pecatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi pecatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi pecatori adesso e nell'ora della nostra morte Amen Quinto dolore Maria è presente alla crocifissione e morte di Gesù O Maria ti contemplo mentre stai in piedi accanto al tuo figlio morente lo avevi seguito con dolore e ora con dolore inconsolabile ti trovi sotto la sua croce O Maria la tua fedeltà nella sofferenza è veramente grande hai un animo forte il dolore non ti ha chiuso il cuore di fronte ai nuovi compiti per desiderio del figlio diventi madre di tutti noi ti prego Maria per quelli che assistono i malati aiutali a prestare con amore le loro cure dona forza e coraggio a quelli che non ce la fanno più accanto ai loro malati in modo particolare benedici le mamme che hanno bambini infermi fa che anche per loro il trovarsi a contatto con la croce sia cosa salutare unisci al tuo dolore di madre l'estenuante fatica di chi per anni o forse per tutta la vita è chiamato a prestare servizio ai propri cari infermi ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio prega per noi pecatori adesso è nell'ora della nostra morte amene ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio prega per noi pecatori adesso è nell'ora della nostra morte amene ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù santa maria santa maria madre di dio prega per noi pecatori adesso è nell'ora della nostra morte amene ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio prega per noi pecatori adesso è nell'ora della nostra morte amene ave o maria benedetto il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio santa maria madre di dio prega per noi pecatori adesso è nell'ora della nostra morte amene ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio prega per noi pecatori adesso è nell'ora della nostra morte amene ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù santa maria madre di dio prega per noi pecatori adesso è nell'ora della nostra morte amene sesto dolore maria riceve sulle braccia gesù deposto dalla croce ti osservo o maria mentre immersa nel più profondo dolore accoli sulle tue ginocchia il corpo esanime del tuo figlio il tuo dolore continua anche quando il suo è terminato lo riscaldi ancora una volta col tuo seno materno con la bontà e con l'amore del tuo cuore o madre mi consacro a te in questo momento ti consacro il mio dolore il dolore di tutti gli uomini ti consacro le persone che sono sole abbandonate rifiutate che sono in lite con gli altri ti consacro il mondo intero siano tutti accolti sotto la tua protezione materna fa che il mondo diventi una sola famiglia dove tutti si sentono fratelli e sorelle ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le done benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le done benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le done benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le done benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le done benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le done benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le done benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen settimo dolore maria accompagna gesù alla sepoltura o maria lo hai accompagnato fino al sepolcro hai singhiozzato e pianto su di lui come si piange per un figlio unico molte persone nel mondo vivono nel dolore perché hanno perduto i loro cari consolali tu e dona loro il conforto della fede molti sono senza fede e senza speranza e si dibattono nei problemi di questo mondo perdendo fiducia e gioia di vivere o maria intercedi per loro perché abbiano fede e trovino la loro strada sia distrutto il male e fiorisca una vita nuova quella vita che è nata dalla tua sofferenza e dal sepolcro del tuo figlio amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi pecatori adesso e nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi pecatori adesso e nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi pecatori adesso e nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi pecatori adesso e nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi pecatori adesso e nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi pecatori adesso e nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia preghiamo 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 o dio tu hai voluto che accanto al tuo figlio inalzato sulla croce fosse presente la tua madre adolorata fa che la tua santa chiesa associata con lei alla passione del cristo partecipi alla gloria della risurrezione per lo stesso tuo figlio che è dio e regna con te nell'unità dello spirito santo per tutti i secoli dei secoli amen nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amen